L'elite del mobile è il punto di riferimento per coloro che amano tra una scrupolosa selezione di antiquariato inglese, argenti, sheffield, orologi e oggetti da collezionismo. Bellissimi tavoli allungabili a manovella che raggiungono anche i 4 e 6 metri di lunghezza. Interessanti le sedi a disposizione e i pezzi in genere che spaziano tra il 700 e l'800 fino al periodo di Edoardo VII. Elite dispone di uno specializzato laboratorio di restauro, effettua gli acquisti direttamente in Inghilterra e mette a disposizione dei suoi clienti un parcheggio coperto riservato.